Buonasera a tutti, vi faccio vedere tutte le mie fast crash dell'edicola. Queste sono quelle con i colori normali. Ora quelle di colore ice. Ora vi faccio vedere quelle più grandi. Ora a gioco vi faccio vedere come stanno i miei colori. E' così puro. Ce l'ho fatto. Adesso lo metto di qua. Non lo vedete. E' così puro. qui si sta a casa? qui si sta a casa? Grazie a tutti. Adesso vi faccio vedere quelle Ice. Questo è un modellino speciale perché se si mette vicino a una lampadina si illumina al buio. Questo serve per non sganciare le macchine. Questi non li metto perché si staccano sempre. Non si deve staccato niente. Per togliere i pezzi non si deve né spingere, si deve solo fare stracce e si toltono. Non si deve né spingere per spaccare. Non si può fare, altrimenti si rompono. Ho già finito l'altra. Adesso toccano alle grandi. Prendo questi turetti. E' caduto a terra. Lo prendo dopo il video. Io lo posso fare, però voi non lo potete fare perché non si tira troppo. Io lo tiro piano. Io lo tiro piano piano. Così. Si fa solo così. Piano piano. Veloce veloce non si fa. Forte no. Mi piacciono un sacchissimo queste faste pesce. oh mi sono dimenticato di posare questo la risposta di 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 risposta vi saluto a tutti ciao ciao